Come altre aziende di successo, siamo in costante crescita e siamo considerati un leader innovativo del nostro settore. Eppure siamo diversi, entusiasmanti e innovativi. Perché seguiamo un percorso alternativo che non è determinato dai numeri, ma dalla passione. Una passione che ci spinge a ispirare i clienti ogni giorno. Oggi Rational è presente nelle cucine di oltre 100 paesi. Oltre un milione di apparecchi venduti vengono adoperati nelle mense di Pechino, nelle cucine di Mumbai o nei loft di San Paolo. Ogni giorno in tutto il mondo vengono preparati più di 130 milioni di pasti con gli apparecchi Rational. Questo ci rende il fornitore di soluzioni per la cottura degli alimenti. Con oltre 2000 collaboratori, lavoriamo ogni giorno per offrire ai nostri clienti il massimo vantaggio. Non c'è quindi da stupirci se la maggior parte dei nostri collaboratori sono chef che si attivano, discutono e cucinano. Sono collaboratori che si identificano con l'azienda, prendono decisioni e si assumono responsabilità. Agiscono come imprenditori all'interno dell'impresa, creando sistemi di cottura che fissano nuovi standard. Assistiamo cuochi e ristoratori dalla fase di progettazione all'installazione iniziale e anche dopo l'acquisto offriamo un servizio completo, una consulenza competente e una formazione continua per tutto il ciclo di vita del prodotto. Così, in quasi 5 decenni, una buona idea si è trasformata in una gamma di servizi su misura e prodotti per tutti gli usi e di tutte le dimensioni, dotati di sistemi elettronici di alta qualità e di un'intelligenza pratica. Rational è l'unione perfetta tra una buona idea, passione ed entusiasmo. Ed è sinonimo di valori che si ispirano ai clienti e alle persone e dell'impegno di migliorare una buona idea di giorno in giorno. Il resto è storia e futuro. Perché la nostra passione non ha fine.